Benvenuti, sono sempre io Alessandro e quest'oggi visiteremo il Mausoleu de Plauzzi e il ponte lucano, il ponte romano che sorge sotto al Mausoleu. Il Mausoleu è uno dei più importanti sepolcri romani pervenutici, è uno dei meglio conservati e purtroppo anche questo monumento è nel più totale e completo stato di abbandono. Venite con me, vi farò vedere. Ok, sperando di non venire aggrediti. Notare? No, qua c'è un bidone un po' di zio. Notare? Eh? Bello eh? Eh? No. Questa è più fettice. Anche con il rosso mi piace. Poi tutte le giappole che non li fanno, li buttano così. Guarda eh? Bello eh? Si. Ah, i carcinacci vuoi? La favola. Ma può essere. Sai che figata? Si, paura. No. ecco qua. Questo. C'è un tizio. C'è un tizio. C'è un tizio. Speriamo. un po' di uomo, ora andremo. Tu, pronto, via. Scappa. Vi scappa. Vi scappa, faccia più. Cosa è a fare? ebbè la niene è pulitissimo a parte la monnezza se tu considera che questo ponte fino agli anni 80 è basso, potrebbe fare il bagno si si, veramente è pulita l'acqua tu considera che fino agli anni 80 questo ponte era assolutamente percorribile era carrabile, solo che poi inspiegabilmente è stato lasciato così e vedi quella montagna di monnezza che c'è lì, quella è stata portata dal fiume e ha bloccato con gli anni e ha bloccato l'accesso al ponte dimmi dimmi che è? c'era? c'era? dai sbrigiamosi sbrigiamosi non è esattamente un bel posto questo secondo me la che si fa là? boh questo è il mausoleo qui ci sono le pompe di trovore che queste sono le pompe di trovore praticamente la cosa eh? l'acqua del fiume arriva fino a qua quando ci sta la piena sommerge tutto e qua ci sono le pompe di trovore che pompano via l'acqua si lo so che c'è una cash qua si lo so che c'è una cash qua guarda si entrava pure da qua volendo si entrava pure da qua volendo noi abbiamo attraversato la parte più pericolosa però bisognerebbe trovare un modo per entrare e quindi buona ma qua la pesca ne ho? ma qua la pesca ne ho? penso che si e niente e questa è la nostra breve visita al mausolo dei Plauzzi in mezzo dimenticato in mezzo al fiume dimenticato in mezzo all'ammonnezza se vi capita di venire qui a Tivoli fateci un salto certo dovete stare attenti che non vi aggrediscano che nessuno vi aggredisca dovete superare una discarica abusiva abbiamo fatto la conoscenza di un autokno che ci ha fatto capire che non eravamo molti benvenuti e quindi ce ne stiamo andando spero di non avervi annoiato buon proseguimento del giornale ahhh 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 bello eh